Il motivo per cui siamo qui oggi è che recentemente è stata emessa una sentenza da parte del Consiglio di Stato, sentenza del 15 maggio, che riguarda la questione del porto Franco Nord di Trieste, dei suoi punti franchi, riguarda appunto il riconoscimento o meno della sovranità italiana ma sovruttaria. Questa sentenza è stata già commentata, ma è stata commentata in maniera distorta da parte degli organi di informazione locali e in particolare da parte del quotidiano il piccolo, quindi vogliamo spiegare alcuni punti fondamentali. della sentenza del Consiglio di Stato. La sentenza è la numero 2780 del 2012 e secondo i proponenti la speculazione edilizia nell'area del porto Franco, volgarmente chiamato porto vecchio, questa sentenza consentirebbe a loro di andare avanti con questi progetti di riqualificazione e di riconversione del porto ad aria urbana, perché questa sentenza riconosce effettivamente la sovranità italiana sul porto di Trieste e quindi non riconosce all'estraterritorialità del porto Franco internazionale di Trieste. Il problema è che questa sentenza sta al valore della carta straccia, perché l'autorità italiana e l'autorità giudiziaria italiana non ha sul porto libero internazionale di Trieste alcuna competenza, quindi questa è sì un'area extraterritoriale e quindi un'area internazionale e il tribunale competente non è quello di un paese, quale l'Italia, che ha occupato questo porto e ha occupato questo territorio. La competenza può essere, ed è solo, quella delle Nazioni Unite.